Lavoriamo con diverse aziende, ecco qui in casa per l'appunto, ma ci sono rappresentanti di tante altre insegne con il quale collaboro, Rinascimento, Terranova, Iop, Gruppo Teddy in genere. Lavoriamo con Piazza Italia, con Doppelganger, con Casanova, Giovanni Somma poco fa ha rappresentato. Sei uno specialista del non-food, sia nel fashion che nel mondo caldo. Assolutamente, anche se abbiamo una puntatina anche nel food, giusto per diversificare e non farci mancare niente. Qual è il cifra d'affari della tua azienda? Oggi il gruppo questo proprio stretto che fa capo a me è 40 milioni di euro. Per quanti addetti? 120 ad oggi. Scusa, i territori a questo punto dove operi? Operiamo in Sicilia e da novembre 2022 siamo usciti oltre i confini, abbiamo fatto il primo approdo in Reggio Calabria. Quindi evidentemente si può immaginare che ricevi tante proposte. Come selezioni, con quali criteri, cosa cerchi nei brand che si avvicinano a te? Ma oggi più che mai l'attenzione, il livello di attenzione nel sposare un progetto si è alzato. Diventa sempre più difficile competere in un mercato che da una parte è sovraffollato, dall'altra sempre molto più esigente. anche le prospettive finanziarie di capacità di acquisto degli italiani, l'abbiamo visto, non sono molto incoraggianti, però ecco questo è il nostro dovere, andare contro corrente. La scelta viene fatta sulla base di analisi, di solidità dell'insegna, di riconoscibilità. Queste sono le... Ti è capitato di lavorare con dei brand poco noti, magari con meno soddisfazione? Certo, sì. Quindi quello ti ha fatto imparare, anche quello si impara evidentemente, e l'esito è esattamente quello che racconta. Esatto. Essere più selettivi. Esatto. Sull'identità della marca. Una tipica domanda che fai a un nuovo brand, che approcci, che cosa gli chiedi? Ma intanto un discorso molto più completo, non ci si concentra su una singola domanda. È chiaro, devi valutare, oltre al dialogo, devi anche visionare gli store esistenti, le attività già presenti sul mercato, fare dei sondaggi, fare delle analisi. Quindi al di là di quello che viene detto, è proprio uno studio vero e proprio che deve essere fatto. Che cosa è successo quando a un certo punto ti sei trovato magari in difficoltà perché i risultati non tornavano? Che tipo di atteggiamento supportivo hai ricevuto dall'insegno? Grazie per questa domanda. Mi permette di dare giustizia a uno dei brand più evoluti in questo rapporto fra insegna e imprenditore. Il gruppo TED, già sin dai primi approcci, struttura un rapporto di conto economico condiviso, sostenibile e chiaramente di impegno reciproco. Quindi nel momento in cui è capitato, per fortuna raramente, perché appunto le scelte a monte sono state azzeccate. Cerca di sbagliare poco all'inizio. Assolutamente e tra l'altro è uno dei brand molto severi nel dire sì perché una valutazione è veramente oculata nella location eventualmente che l'imprenditore propone. E quindi ecco, gli errori si riducono al minimo ma lì dove ci sono stati, sono intervenuti proprio sulla marginalità. Una vera partnership. Assolutamente sì. Questo perché mi sembrava interessante dirlo ed è di esempio naturalmente, soprattutto con imprenditori che come te lavorano con più insegne e quindi rappresentano anche dei connettori culturali rispetto a modelli. Direi guardate di là lavorano così, magari potreste adottare anche voi se la formula è applicabile. Grazie. 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 Grazie.